E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Alexplay04 Oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite ragazzi E oggi siamo qui con un nuovissimo video di Fortnite perché non l'ho portato tantissimo tempo Sto facendo solo live in questo periodo Però ragazzi oggi voglio portare un video sulla modalità domina la disco dega ragazzi Perché è una modalità bellissima, secondo me è troppo bella Allora ragazzi ci vediamo quando scendo Ok otterrei subito Borgo Bislacco Secondo me ci verrà qualche nemico oltre che compagno di squadra secondo me No non vedo niente E si sono fottuti la casa perché le persone si fottono le case Non si sa Però so solo Una cosa Devo prendere sta cesta Devo prendere questo Che devo spaccare qui E devo ruotare un po' Perché abbiamo solo trovato questo che non mi piace Carina, 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 carina Facciamo questo qua, questo qua e questo qua Caruccio, caruccio Andiamo qua sotto Prendiamo questo No Che schifo Deve pistola Meglio di niente Posso farci niente se non trovo un pompa in questa casa Comunque là sopra stava la cesta Lo vado a prendere Sopra stava la cesta Infatti Ecco qui Andiamo che troviamo Grosso calibro Che cazzo Meno male che l'ho presa sta cesta E raga Aspettate faccio così Faccio così Poi ragazzi Prendo le bende Poi prendo la fenditura Prendo il suo coso E me ne vado Andiamo qui sopra Va bene Andiamo qui sopra Infatti sta anche la cesta Questo l'ho Perché stava abbassato Mitraietta blu Bella Altra bende Un altro Shield Grande Ce lo beviamo Mi porto il suo coso Lo scelgo Il grande inutile per me E poi andiamo Ok qua è venuto il mio compagno A rompermi Il fasulo Che se ne deve andare ora Vabbè sale Tanto non trovo niente E niente raga Vado al centro Ci vediamo Ricarichiamo questo pompa qua Lo pisco adesso già a carica E andiamo Alla pista da ballo Che ce l'hanno Nell'uomo tolta Addio Vedete quello Vedete quello Vedete quello Vedete quello Ma muore Raga quello là Secondo me muore No? Sì infatti è già morto Ehm Ballate Andate a ballare Guardalo Guardatevi che si prendono Prima le munizioni Poi ballano Ancora ballo Balliamo tutti Raga così sale di più Ok Ah questo L'ho distrutto Per me sta qualcuno Qui sopra Ok L'hanno killato Perfetto Oh No Pensavo l'avevo fatta io Però l'avevo preso Eh cazzo Eh merda Fate voi raga Pensate che lì c'è uno Esci da testa Raga Mi sono deciso Vado Eh però quel razzo Lo potevi tirare meglio Frate Uh Cazzo Oh oh Ma sta qua No L'ho caduto Vabbè L'hanno ucciso Perfetto Eh Quel cazzo di razzo Sparatevano meglio Giusto Andiamo lì Andiamo 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 No Che palla Che ci vanno a cadere Do qua Do qua È stato ucciso Il nostro compagno Mi sa Andiamo ad aiutare Andiamo ad aiutare Che cazzo mi spari Ah No No raga Che palla È morto Eh meno male che l'ho ucciso Però Meno male che l'ho ucciso Raga ho poca vita Cazzo faccio Cioè la sloop Non me la bevo raga Tanto in questa modalità Quando si morre Si può Uh Ah no Mi ha fatto uno jumpscare Incredibile Vabbè Andiamo là Andiamo là Andiamo là Andiamo là Questo amico No Che palla Ok ho ucciso Oh mio dio Oh ma se non basta Eh vabbè Se ne va al centro Oh mio dio Oh 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 Che palla Me l'hanno fattuto Che palla me l'hanno fattuto Comunque ho rotto un bordello Raga cosa hanno fatto Cosa cazzo hanno fatto Quante trappole Aiuto Ucciso Raga sono morto Eh vi avviso Quante trappole ci sono Quante trappole ci sono Qui d'altra Eh vabbè Che palla Ne stavo Ne stavo per killare uno Cosa dire di fare Vado vado Tutto quello è morto Ragazzi hanno tolto Un bordello Che come Quanto smirato Uh Quanto smirato Quando Uh Bello Bella questa illuminazione Un'altra Vabbè che le sto fottendo Un po' a tonte Vero Va bene Eh ragazzi C'è una ragionante C'è una ragionante Cazzo Tutte queste munizioni Tanto ragazzi Fa poco sono morto La slurpa Non la spreco Non devo riservire dopo No 37 Non è possibile Ragazzi stanno andando La pista da ballocci Perché l'hanno Prese i nostri nemici E stiamo perdendo 27 a 35 Quindi è meglio Che conquistiamo Quest'isola Partiamo più un'arma Adesso c'è qualcuno È meglio Che conquistiamo Quest'isola Contestata Ora la contestiamo Facendo qua Ragazzi Velo qua Velo qua Velo qua No 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 Non ho materiali No Cazzo Avevo materiali Ho cambiato un altro Oh merda Eh Quell'hanno i materiali Cosa devo scappare Ciao Sette 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 Allora Qua a bordo Aspetta Potremmo mettere Un attimo Qua Eh però Sette Merda Che cazzo Fai La fruccia Perché faccio vedere Quello lì Ok L'hanno chillato Niente più Non lo vedete più No L'ho fatto il 60 Non ci sia riuscito Occo è morto Ok Ucciso Quello Dai Ho tutto Esplodere Non ci posso Credere Ovviamente Faccio Due Che Quando Non Registro Poi Registro Mi Chiellano Ovvio Terro Lì Terro Da Quello Eh no È stato Ucciso Quando Atterro Io Poi Uccidono Oh È stato Ucciso Quello Eh Mi ha Raspettato Da quello lì Quello lì Se esce la testa È morta Perché Si sta curando La questa No La madonna Quanto Quanta roba Oh Stai qua Dai Fai schifo Non ho materiale Sta merda Aiuto Eh vabbè Mi saltava Dio Qua Non ci Posso Credere Quindi ragazzi Spero che vi sia Facciuto Commentate Iscrivete Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti